Ciao a tutti carichissimi, io sono Matteo Agostini e benvenuto in questo nuovo video. Finalmente sono stati annunciati nuovi titoli di nona generazione, Pokémon Scarlatto e Pokémon Violetto. Oggi andrò ad analizzare insieme a voi quelli che sono i riferimenti storici, architettonici e soprattutto culturali rispetto a quello che abbiamo visto nel primo trailer lanciato proprio in occasione del Pokémon Presence 2022 che si è svolto proprio ieri, vale a dire il 27 febbraio 2022. Ho cercato di analizzare frame per frame, cercando di soffermarmi soprattutto su quelle caratteristiche principali che potessero dare e quindi attribuire un valore specifico alle immagini che stavo vedendo. Quindi venite con me e partiamo carichissimi nell'analisi di quella che potrebbe essere una possibile ambientazione specifica per questi nuovi giochi Pokémon di nona generazione. Procedendo proprio in ordine di trailer, la prima immagine che mi è saltata subito all'occhio è esattamente pochi istanti dopo che il trailer è partito, vale a dire nel momento in cui si ha un fermo immagine su una lavagna all'interno di questa stanza in cui questa guardia è presente nella quale sono presenti una serie di foglie ed in particolare una cartina che ricorda molto precisamente la forma della Spagna. E già questo ovviamente è un primo riferimento molto importante che può fin da subito indirizzarci a quella che potrebbe essere la regione o meglio la nazione o meglio la penisola perché secondo me di penisola si tratta, e vi spiegherò più avanti, alla quale per l'appunto questi nuovi titoli Pokémon fanno riferimento. Ma andiamo avanti e procediamo con ordine. Andando avanti col trailer ho deciso inoltre di soffermarmi su delle schermate particolari, vale a dire come nella schermata della palude degli Psyduck. Perché? Perché banalmente se le altre immagini che vengono mostrate sono immagini comunque di luoghi piuttosto comuni come può essere una riva del mare piuttosto che invece un ambiente collinare, ecco, in questo specifico caso si ha un'immagine ben precisa di una palude con degli Psyduck presenti. A tal proposito la Spagna presenta una zona paludosa piuttosto importante che si ritrova e si geolocalizza nel Parco Nazionale di Doniana, un parco nazionale molto importante che si distribuisce tra le province di Huelva e Siviglia, esattamente nella parte meridionale della Spagna e quindi in Andalusia. Altra immagine secondo me estremamente di vitale importanza che ci aiuta ovviamente anche a capire dove geolocalizzare questi nuovi titoli Pokémon è sicuramente l'immagine relativa al deserto, deserto in cui è presente uno Stonejourner che ovviamente già di per sé potrebbe escludere tutta una serie di nazioni che non presentano deserti o che comunque non viene fatto riferimento ad essi. La Spagna invece presenta un deserto piuttosto importante, unico in Europa se vogliamo nel suo genere, vale a dire il deserto di Tabernas che si trova in Almeria, anch'esso localizzato nella provincia di Almeria per l'appunto, vale a dire nel meridione e quindi per l'appunto anch'esso in Andalusia. Ma continuiamo e procediamo con ordine. Nelle immagini successive del trailer ho voluto soffermarmi su quest'altra schermata, una schermata secondo me veramente precisa e ci dà un riferimento storico e culturale molto molto indicativo. In questa schermata vediamo banalmente un Pikachu ai piedi di una scalinata piuttosto iconica e dall'architettura piuttosto bizzarra. Nel momento in cui ho visto questa schermata il mio riferimento è stato rapidissimo. Come si fa a non pensare alla scalinata di Park Güell che si trova per l'appunto a Barcellona. Ci sono stato a 16 anni a Barcellona, quindi insomma più di 10 anni fa, ma mi ricordo molto bene questa scalinata perché è sicuramente una delle scalinate più belle del mondo e anche più iconiche se vogliamo con questa sua particolare forma mosaicata e che presenta come potete vedere questa sorta di archi laterali che ne fanno appunto da padrona. Inoltre la forma conica indistinguibile che va a restringersi verso la parte alta della scalinata è un palese richiamo all'interno di questa scalinata di Park Güell. Procedendo ancora ci viene mostrata questa immagine, un'immagine piuttosto particolare se vogliamo di questa sorta di struttura che presenta vari pinnacoli. Potremmo ipotizzare essere la Lega Pokémon o comunque un edificio molto molto importante all'interno di questa nuova regione Pokémon ma che fa secondo me un chiaro riferimento ad uno dei monumenti più importanti a livello mondiale che anch'esso si trova per l'appunto a Barcellona vale a dire la Sagrada Famiglia. Possiamo tranquillamente comparare questa immagine alla Sagrada Famiglia che come potete vedere presenta una struttura architettonica piuttosto simile all'immagine mostrata in precedenza anche se c'è una netta differenza. Vale a dire se la Sagrada Famiglia si sviluppa frontalmente tutta su un lato e quindi sul lato orizzontale la struttura invece mostrata all'interno del trailer è una struttura che dalla prospettiva ci fa capire essere piuttosto angolare anche se ricordiamoci che comunque Game Freak tende ad utilizzare, ad ispirarsi soprattutto a strutture reali per creare delle strutture proprie e quindi non debbono essere per forza esattamente uguali a quelle presenti nella realtà. Un'altra immagine secondo me di carattere importantissimo è questo fermo immagine per l'appunto che mostra due case colorate insomma case colorate tipiche spagnole che possiamo trovare in ogni città spagnola Madrid, Barcellona ed in particolare questa immagine qua sono andato ad associarla ad un'immagine piuttosto ricorrente, piuttosto conosciuta come quella della cattedrale di Cuenca in Castiglia-La Mancia cattedrale che mostra per l'appunto accanto le tipiche case colorate spagnole rossa, grigia, gialla e blu che caratterizzano tale città. Man mano che il trailer continuava a scorrere mostrando Pokémon all'interno di vari paesaggi arriviamo a questo fermo immagine che secondo me è decisamente caratterizzante come possiamo vedere al centro di questa piazza è presente una sorta di mosaico dalla forma rotonda sul quale al suo interno sono incisi le varie tipologie Pokémon presenti all'interno del gioco o quantomeno conosciute finora ci sono tuttavia dei richiami a punta di questo mosaico che sono presenti all'esterno dello stesso con una struttura architettonica piuttosto imponente al di fronte dello stesso è così che ho fatto riferimento ad una delle piazze principali della Spagna vale a dire a Plaza de Catalunya infatti anch'essa presenta al centro della piazza un mosaico piuttosto grande centrale di forma rotonda con all'interno chiaramente questa sorta di punte che invece all'interno del gioco Pokémon sono state semplicemente inserite all'esterno l'edificio architettonico di fronte che domina la piazza non è altro che il banco di credito espagnol e che ben si rifà architettonicamente parlando e strutturalmente parlando all'edificio proposto all'interno del gioco Pokémon successivamente mi soffermo su questa nuova immagine nella quale al suo interno il protagonista sale le scale di questa casa casa che però presenta un dettaglio secondo me piuttosto particolare se infatti vi soffermate con lo sguardo in alto a destra è presente un quadro dalle fattezze e dalle movenze decisamente spagnole esso va infatti a ricordare i quadri tipici spagnoli con la classica posizione delle ballerine di flamenco e quindi con una mano alzata e l'altra sul fianco in segno di una sorta di olé spagnolo che quindi può essere un chiaro riferimento ad esso abbiamo inoltre sempre all'interno di un'abitazione una cartina in particolare sulla destra di questa immagine che mostra la forma della probabile regione nella quale si andranno ad ambientare appunto i nuovi giochi Pokémon essa ricorda chiaramente la forma specifica non della Spagna ma della penisola iberica cosa che quindi lascerebbe pensare per l'appunto al fatto che tutta l'ambientazione dei nuovi giochi Pokémon non sia solo precisamente in Spagna ma che possa riguardare comunque tutta la penisola iberica e quindi espandersi anche per l'appunto in Portogallo in questo particolare fermo immagine si fa riferimento nella zona nord di questa mappa ad una sorta di zona paludosa di area paludosa che per l'appunto abbiamo visto in precedenza con la palude degli Psyduck tuttavia come detto in precedenza la palude presente all'interno del parco nazionale di Doniana è esattamente speculare in una cartina geografica rispetto alla posizione in cui fa parte tale palude all'interno del gioco Pokémon possiamo quindi ad esempio ipotizzare ad un ribaltamento della cartina della Spagna ed in particolare della penisola iberica poiché tale posizione sia esattamente speculare nel gioco rispetto a quanto non sia presente nella realtà fatemi sapere che cosa ne pensate infine all'interno della solita stanza viene mostrato inoltre un fermo immagine con una Nintendo Switch in primo piano ma se fate chiaramente maggiore attenzione sulla parte alta a destra di tale fermo immagine è presente la parte meridionale della precedente citata mappa Pokémon nella quale si riprende inconfondibilmente comunque la forma della penisola iberica senza alcun dubbio e che quindi non fa altro che confermare quanto detto finora voglio soffermarmi ora sulle ultime due immagini che hanno catturato la mia attenzione all'interno di questo trailer in ordine cronologico ovviamente questo cestino di frutta nel quale vi sono delle arance e dei grappoli d'uva che fanno riferimento ovviamente ai due titoli dei nuovi giochi Pokémon e quindi Pokémon Scarlatto e Pokémon Violetto ma soprattutto nella parte bassa di tale immagine ha questi due panini a queste due tapas tipicamente spagnole che vengono per l'appunto utilizzate durante gli happy hour spagnoli infine l'ultima immagine inconfondibile è quella dei due loghi Pokémon Scarlatto da una parte e Pokémon Violetto dall'altra se il primo presenta uno stile piuttosto antico quasi arabo e mosaicato direi il secondo presenta uno stile estremamente opposto moderno, futuristico ed innovativo e beh direi che la Spagna e in generale tutta la penisola iberica hanno risentito ovviamente dell'influenza araba in passato che li ha portati ad avere un determinato tipo di cultura tanto quanto nell'era moderna e nell'era futura si appresta ad essere una delle penisole più all'avanguardia del mondo signore e signori io spero che questo video vi sia piaciuto un video analisi riguardante per l'appunto il trailer di Pokémon Scarlatto e Pokémon Violetto che è stato mostrato proprio ieri in occasione del Pokémon Presence vi invito a lasciare un bel mi piace iscrivervi al mio canale mi raccomando fatelo perché è importante attivando la campanellina e noi ci vediamo ad un nuovo video sempre riguardante Pokémon Scarlatto e Pokémon Violetto perché ho intenzione ovviamente di andare ad analizzare i nuovi starter di nona generazione ciao a tutti carichissimi a tutti carichissimi